Benvenuti su Reality News. I protagonisti di questo scoop sono Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante. Non siamo ancora al punto delle note di Annalisa di «Ho visto lei che bacia lui che bacia lei». Ma vi assicuriamo che le dinamiche social si faranno ancora più complesse. Nelle ultime ore, un gesto apparentemente innocuo ha scatenato il caos tra i sostenitori dei Donnalisi. Antonella Fiordelisi, la famosa influencer campana, ha deciso di prendere una decisione drastica, ha eliminato Edoardo Donnamaria dai suoi seguiti su Instagram, spegnendo le ultime fiammelle di speranza per i fan che ancora sognano una riconciliazione tra l'ex coppia. Ma la sorpresa non si ferma qui. Gli occhi attenti dei seguaci di Antonella hanno notato un altro interessante movimento sui social. Dopo aver inizialmente rimosso Matteo Diamante dalla sua lista di seguiti, la Fiordelisi è tornata a seguire il cantante romano. Questo gesto ha naturalmente catturato l'attenzione e suscitato molta curiosità tra gli utenti social. Cosa ha spinto Antonella a prendere questa decisione così inaspettata, soprattutto nel momento in cui aveva appena smesso di seguire Donnamaria? Secondo alcune teorie avanzate dai fan più accaniti, questo potrebbe essere stato un gesto di solidarietà nei confronti di Nikita, la ragazza con cui Matteo Diamante ha annunciato di aver concluso definitivamente la relazione nelle scorse settimane. Ma le domande restano aperte e le supposizioni sono molteplici. Nonostante tutto, i sostenitori dei Donnalisi non perdono le speranze. Un evento datato 23 luglio ha riportato insieme Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, alimentando i desideri dei fan di vederli di nuovo uniti. Le parole della stessa Antonella, che sperava apertamente di poter far fiorire nuovamente l'amore con lo speaker radiofonico, hanno fatto battere più forte i cuori dei sostenitori. Ma sarà davvero possibile un ricongiungimento? Quello che è certo è che il mondo dei social sta tenendo tutti col fiato sospeso. I drammi, gli intrecci e i colpi di scena non accennano a placarsi, lasciandoci con il cuore in tumulto e la mente in subuglio. Siete pronti a scoprire cosa riserverà il futuro per Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante? Continuate a seguirci su Reality News